. Eliminare le occhiaie con maschere naturali La mancanza di un adeguato riposo, linsonnia, una cattiva alimentazione e anche il trucco possono causare la comparsa delle occhiaie. Tuttavia può anche essere una caratteristica di famiglia. Per fortuna, però, possiamo ricorrere ad alcune maschere per eliminare le occhiaie. Uno dei vantaggi di queste ricette è la facile elaborazione, potete prepararle in un attimo e richiedono una spesa mini. La cosa importante per ottenere gli effetti migliori è scegliere ingredienti freschi. Se vi avanza molto prodotto, potete conservarle in un barattolo di vetro ben coperto da tenere in frigorifero. In questo modo, si rafforzerà anche l'effetto rilassante gli occhi grazie al freddo. Maschere per eliminare le occhiaie Questa maschera è un eccellente regolatore sanguigno che aiuta a rilassare gli occhi sfiammando le palpebre. Dopo una settimana di applicazione, le occhiaie saranno scomparse quasi del tutto. Si consiglia di applicare questa maschera ogni giorno per una settimana e poi una volta alla settimana. Ingredienti. Un quarto di patata media Un quarto di cetriolo Un mezzo capsula di vitamine Preparazione Per prima cosa, sbucciate e pulite bene entrambe le verdure. Fatele cuocere con acqua abbondante per circa 10 minuti a fuoco basso. Quando si ammorbidiscono, rimuovete e lasciate riposare. Al raggiungimento della temperatura ambiente, sminuzzate aggiungendo la vitamina E e mescolate per formare una maschera. Applicate su tutta l'area del contorno occhi, facendo attenzione a non far andare il preparato al loro interno. Attendete 15 minuti e rimuovete con acqua fredda. Nota per il suo effetto calmante e rilassante, la camomilla è eccellente per preparare maschere per eliminare le occhiaie. Assieme allo yogurt, la camomilla costituisce una crema stupenda per il contorno occhi, molto economico e in grado rilassare gli occhi e ammorbidire la pelle. Ingredienti. 1 bustina di camomilla 1 quarto tazza di acqua calda, 62 ml, 1 cucchiaio di yogurt, 20 gr. Preparazione. Preparate la camomilla immergendo la bustina in acqua calda. Aggiungete all'infusione lo yogurt e mescolare bene perché si integrino ed eliminate eventuali grumi o bolle d'aria che possono essersi formati. Mettete in frigorifero, perché l'effetto di questa crema aumenta quando è fredda. Dopo una giornata in frigo, applicatela delicatamente e lasciate riposare per 20 minuti. Rimuovere con acqua fredda e applicate la crema idratante. Se si lavora al computer per diverse ore, utilizzate questa maschera almeno tre volte alla settimana per rilassare gli occhi ed eliminare le occhiaie. È possibile applicarla anche ogni giorno prima di dormire per un effetto costante. Mela e olio d'oliva. La mela è ricca di antiossidanti, i rinnovatori cellulari per eccellenza. Queste caratteristiche si uniscono all'idratazione e la nutrizione apportate dall'olio. Potete rilassare gli occhi con questo preparato due volte alla settimana. È importante che l'olio d'oliva sia completamente puro. Alcune marche combinano olio di oliva con altri che possono alterarne le proprietà. Ingredienti. Un mezzo mela media un cucchiaio di olio d'oliva. Preparazione. Cuocete la mela in forno con un po' di acqua. Utilizzate l'acqua necessaria per ammorbidire la frutta rendendola facile da triturare. Triturate la mela fino a quando diventa una poltiglia. Aggiungete l'olio e mescolate molto bene per creare la maschera. Applicate sul contorno occhi, facendo attenzione a non farla entrare negli occhi in quanto l'olio li può danneggiare. Coprite con un panno umido e lasciate riposare per 30 minuti. Risciacquate con acqua tiepida e, infine, applicate una crema idratante. Olio di mandorle e olio di avocado. State cercando di eliminare le occhiaie senza dover creare impasti che possono richiedere refrigerazione o qualsiasi procedimento supplementare? In tal caso, provate questa combinazione di oli. Si tratta di due opzioni altamente nutrienti ed economiche. La loro applicazione è semplice e potete lasciarli agire per tutta la notte. Ingredienti. 3 gocce di olio di avocado 3 gocce di olio di mandorle. Preparazione. Mescolate i due ingredienti e applicate dando colpetti sul contorno occhi. Fate molta attenzione a non farli andare negli occhi e realizzate un massaggio per facilitare l'assorbimento. Lasciate riposare fino a quando l'olio non viene assorbito. Risciacquate con acqua tiepida e applicate la crema idratante per il contorno occhi. Dati importanti da tenere in considerazione per eliminare le occhiaie. Nessuno può negare che le occhiaie siano un grande problema estetico. Inoltre, ci fanno sembrare stanche e influiscono su qualsiasi trucco che si desideri applicare. Applicare con attenzione le maschere. Dal momento che gli occhi sono molto sensibili, è necessario impedire che queste maschere finiscano al loro interno. Nonostante l'uso di elementi naturali, possono danneggiare la vista. Se avete problemi di vista, siate ancor più cauti. L'ideale è concedersi del tempo per preparare la maschera e applicarla senza fretta. Potete lasciarla agire per qualche minuto in più mentre vi rilassate. Create l'atmosfera perfetta con buona musica e un pisolino. Rimuove accuratamente le maschere. Dal momento che la pelle intorno agli occhi è leggermente danneggiata, è importante che la coccogliate con queste maschere per eliminare le occhiaie. Il modo ideale per rimuoverle è tramite un leggero massaggio circolare con abbondante acqua pulita. Se non è possibile, utilizzate un tampone di cotone per rimuovere delicatamente. Grazie per la visione!